Per me è un grande passo ma sono molto contento di essere qui, spero di poter contribuire a migliorare il livello della squadra, è un grande passo come dicevo ma sono contento, ero pronto a fare questo passo, ero pronto a lasciare l'Olanda e spero di poter dare il meglio.